Era stata annunciata e finalmente è arrivata. La spolverata di neve dei giorni scorsi è solo un ricordo sull'altopiano dei sette comuni dove la Dama Bianca è finalmente scesa copiosa quasi ad anticipare una stagione invernale come si deve. I primi fiocchi sono scesi nella nottata imbiancando paesi e contrade a partire dagli 800 metri in su. Sui rilievi più alti i quantitativi sembrano essere importanti e pare che la coltre abbia superato i 40 centimetri. Ad Asiago solo nel pomeriggio la pioggia ha lasciato posto a qualche fiocco bagnato. Ben diversa la situazione a Gallio e Roana con i tetti di Trescheconca bianchi già dal primo mattino. Spazzaneve e Spargisale sono entrati in azione per liberare le strade e anche nell'area del Turcio si è reso necessario l'intervento dei mezzi comunali. La cartolina dell'altopiano è quindi ora decisamente invernale e sono in molti a sperare che le temperature rimangano molto basse per garantire il mantenimento dello strato di neve fino alla prossima perturbazione. Il comparto turistico altopianese che negli sporti invernali ha la propria colonna vertebrale guarda con fiducia il ponte dell'8 dicembre e si coccola questa prima spettacolare imbiancata. La neve manco a dirlo è scesa copiosa anche sul Monte Grappa che da mezza costa fino al Sacrario si presenta ora nella sua imponente e austera veste invernale.